ciao sono stefano fonzi direttore didattico e fondatore dell'accademia musicale ho lavorato come compositore arrangiatore per moltissimi artisti italiani tra cui gino paoli renato zero nina zilli red canzian paolo fresu fabrizio bosso ho avuto l'onore e il piacere di dirigere moltissime orchestra internazionali tra cui la london symphony orchestra e l'orchestra sinfonica nazionale della rai nel 2016 dopo quasi vent'anni di insegnamento nelle strutture pubbliche ho deciso di fondare una mia accademia mettendo in pratica tutto quello che oltre ad avere studiato ho appreso negli anni da docente oggi l'accademia nella sua sede di avezzano è una tra le più grandi e importanti realtà del centro italia oltre 200 iscritti frequentano i nostri corsi e il nostro metodo riesce a garantire a tutti dei risultati certi e di alto profilo per quanto riguarda la didattica ci rivolgiamo soprattutto ai bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e 10 anni applicando un linguaggio semplice alla portata di tutti riusciamo ad ottenere una continuità didattica che si protrae negli anni e una frequenza assidua da tutti gli allievi oggi mi sento di poter affermare con certezza che la nostra struttura è senza dubbio in grado di formare chiunque abbia voglia di imparare uno strumento musicale rendendo lo studio della musica divertente ed entusiasmante ma allo stesso tempo di altissimo livello professionale personalmente non credo esista un solo metodo di insegnamento ma ciò in cui credo fermamente è nel modo di comunicare con gli alunni è fondamentale adattare ogni forma di linguaggio al singolo allievo i docenti che insegnano nella mia accademia hanno avuto un percorso di formazione che consente loro di poter modellare nel corso di ogni singola lezione il metodo e linguaggio più adatto all'alunno gli ambienti comuni le aule e le apparecchiature di ultima generazione sono senza dubbio un'altra delle componenti importanti indispensabili per poter offrire agli allievi il massimo della professionalità non ultime le lezioni di prova gratuite che danno la possibilità a tutti di capire qual è lo strumento più adatto ad ognuno offriamo sempre infatti la possibilità di provare anche più strumenti poiché soprattutto i bambini spesso non sanno da dove iniziare in questo caso è il nostro compito guidarli verso quella che si accademia musicale.eu vi invito a visitare il sito e prenotare una lezione di prova gratuita entrerete presto in un mondo bellissimo il mondo della musica ciao